alzati un po' alzati un po' perché non ci si vede tra le comunità allora siamo qui a meraki siamo arrivati ieri intanto ci tengo a ringraziare magie da lapis i più umani che sono qua per questa sigla e questa accoglienza dopo ascolteremo anche qualche cosa perché c'è un qualcosa di più umano che ci sarà anche nel domani qua a meraki ma intanto veniamo ai ringraziamenti perché ieri ci siamo un pochino dimenticati nella corsa innanzitutto a rive che ha patrocinato e creduto in questo evento dei cammini tra le comunità e poi anche media partner italia che cambia e terra nuova e per terra nuova portiamo anche che sono stati oltre modo generosi perché oltre ad ospitarci sui propri canali danno anche uno sconto per l'abbonamento alla rivista cartacea a tutti coloro che metteranno la sigla che c'è in in sovraimpressione come la tv se la facciamo per tecnologici per cui va bene questa è una rivista che supporta tutti i movimenti delle comunità e comunque un camminare più leggeri su questo pianeta ma veniamo al cammino vero e proprio ieri c'è stata la prima fatica ragazzi come ve la siete vissuta andiamo un po' con chi vuole portare un commento intanto io sono sapire e assieme a giovanni accompagno il gruppo assieme poi ad uno staff di due scerpa che ringraziamo e mai anche come videomaker ma veniamo al cammino di ieri ieri siamo arrivati qui abbiamo fatto la bellezza di dieci virgola quattro chilometri che sembravano anche pochi lunghi di quello che sono stati come andata? perché il primo giorno è sempre peggiore e comunque mi hanno fatto subito lavorare a gratis ho dovuto fare la scopa cos'è la scopa? è quello che sta in coda e che dovrebbe servire a qualche cosa cioè a tenere compatto il gruppo insomma ad avvisare se qualcuno resta indietro non è che è andata proprio a gratis alla fine siamo arrivati tutti sì in qualche modo qualcun altro vai i commenti di ieri tieni tieni dite il vostro nome ciao io non voglio essere vera ma era stata di una fatica indagelata che abbiamo fatto solo 10 km considerando che domani ce ne aspettano 26 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 e però effettivamente è quella la bellezza della sparchezza non so se mi spiego se potete aiutarmi ti aiuto a togliere basta essere convinti ti dice la bellezza della sparchezza la bellezza della sparchezza ma in realtà per domani abbiamo anche perché poi si apprende dai feedback e per cui per domani avremo due punti di uscita per proprio quelli che non ce la sanno più abbiamo il frugoncino degli scerpa che al dodicesimo chilometro e al diciottesimo chilometro come tipo al giro d'italia potranno prendere quelli che sono proprio stremate una famiglia e li porteranno all'intero della vita e grazie noi non saremo tra quelli assolutamente no altrimenti su ieri volevo dire la bellezza della stanchezza dopo aver sciolto un po' l'acido lattico e quando arrivi poi che si posti meravigliosi io c'ho proprio la divisa da vacanza quando arrivo mi sprago e vedi lui ce la godiamo e ce la godiamo ce la godiamo infatti ieri con Dari eravate lì sembravate un pochino club med l'ambientamento immediato evviva qualche altro commento su ieri? chi c'ha voglia? tutto bene tutto bene è stato bellissimo portare questo gruppo qui a Meraki e poi trovare l'accoglienza a Meraki ed è l'ottimo cibo come sempre Meraki quindi approfitterei da questo momento per dare la voce proprio a Meraki è certo davide se ci vuoi dire qualcosa su questa comunità quando è nata chi siete quanti siete come venite un fiorino allora dunque Meraki è nata nel 2021 all'inizio del 2021 e un po' dalla visione di Carlo Taglia di creare un ecco villaggio e poi pian piano ci siamo radunati insomma non ci conoscevamo pressoché nessuno se non tramite social tramite insomma viaggi vari quindi nessuno di noi si conosceva e dal niente abbiamo formato questa questa comunità prendendo anche strumenti come diciamo comunicazione non violente insomma tutti strumenti che ci permettono di convivere senza saltarci alla gola è stato veramente un avvio rapidissimo per me che sono in riva e che osservo tante comunità Meraki quando sono arrivato qua già dopo un anno aveva il proprio manifesto della visione della missione gli accordi di base tutto scritto la sociocrazia c'è proprio una di quelle comunità che dice wow è arrivato il momento che non c'è più da stare lì a passare sei anni per fare una comunità poi prendere una portata in faccia per tutte le cose che non hai fatto e dopo riprovare al secondo giro forse se va bene loro hanno deciso buona la prima in qualche modo buona la prima vi siete dotati tutti i miei comuni di cui vi trovate e come è andata in tutti i due anni che cosa è cambiato come tu da quant'è che sei qua io sono qui da ottobre del 2021 quindi quasi dall'inizio e personalmente ho visto cambiare tanto c'è anche le persone all'interno c'è un lavoro costante su noi stessi quindi un lavoro personale sui sulle proprie paure i propri limiti i propri insomma i propri compromessi anche con le altre persone che si fanno e devo dire che siamo cresciuti tanto tutti come individui siamo cresciuti veramente penso di essere cambiato dal giorno alla notte un gran cambiamento e qui voi siete proprio sulla via degli dei in realtà è come il rapporto con essere su una via di cammino perché avete gente che vi passa dentro casa adesso qua la camera non l'inquadra ma in realtà se facciamo vedere qua c'è una brocca con l'acqua e il sambù con il limone pronta con i bicchieri per i camminanti della via degli dei che passa praticamente dietro a questo telefono che sta facendo l'inquadratura per cui ci avete quante persone all'anno passano per di qua che ha stimato che ne passa in circa 20.000 l'anno 20.000 l'anno persone che vi passano dentro casa il rapporto con i viandanti il rapporto con i viandanti è sereno tranquillo e per adesso attualmente non facciamo accoglienza per i viandanti ovvio in caso di emergenza sì però non è questo il nostro focus attualmente però devo dire che è una gran bella risorsa perché è una comunità di viaggiatori e quindi anche avere persone che camminano all'interno altri viaggiatori che l'attraversano è un po' questa come dire questa sintonia questa sintonia quindi devo dire che il rapporto di viandanti è molto bello ma molto sereno allora grazie mille Davide intanto se ci sono domande sulla comunità di Merati le potete scrivere qua in chat ci sarà qualcuno che le leggerà forse tu le potrai leggere per cui ti invito a restare magari qua nei dintorni anche qua per qualche altro minuto e chiederei invece a qualcuno che ha fatto l'esperienza di oggi perché oggi è stato un giorno molto soft entriamo perché come succede qua a passi di piede siccome si chiama a passi di piede non passi di massacriamoci lungo la via l'intento è quello di portarli da una comunità all'altra facendo una tratta lunga perché in qualche modo è necessario anche poi anche la bellezza di mettersi alla prova e dall'altra parte poi passiamo un giorno più tranquilli presso la comunità dove facciamo le pratiche più di cammino meditativo cammino dell'attenzione oggi c'era un sacco di gente che era contenta di aver fatto pratiche di cammino che comunque ha scoperto degli ah se qualcuno vuole raccontare qualcosa perché sennò raccontare nello specifico quello che abbiamo fatto poi Giovanni Caccia qualcuno con il bungolo elettrico ma stai parlando dell'esperienza dei passi sì quelli lì non la raccontiamo proprio come ho fatto prima c'è un mese otto ore e mezza esatto praticamente è l'attenzione ad ogni singolo passo perché non si deve mai arrivare da nessuna parte siamo già arrivati non siamo mai partiti non siamo mai arrivati ma tu come te la sei distrutta questa cosa di sperimentare questa cosa un po' bene cioè allora io lo faccio di di mio sono anni che cammino quindi comunque l'attenzione al respiro il passo e queste cose ci stanno però ho scoperto due cose la prima è che c'è il respiro inconsapevolmente consapevole cioè anche se non ci penso poi mi accorgo che effettivamente il respiro ormai è cambiato cioè non è più qualcosa che dopo un secondo è lento poi di nuovo riprende poi vado in apnea però non ci sto pensando che sto in apnea ormai è regolato sulla camminata quindi è una cosa che è diventata automatismo e l'altra è che questa cosa dei passi ragazzi fatelo cioè ad esempio don't try this at home try this at home anzi fuori nel giardino magari vi mettete a piedi scherzi o con le scappette a ginnastica è un'esperienza cioè glielo spieghi tu che cosa consiste ma non portiamo poi non spoveriamo troppo perché la pratica perché poi magari qualcuno vuole di venire qua per un'altra esperienza di cammino fra le comunità o qui invece no o qui o questa è l'iniziazione prego prego ben arrivata se vuoi dire il tuo nome sono Ilaria una delle tre Ilarie che ci sono in questo campo io sono quella di Varese due cose ho visto nella camminata nella levitazione camminata di oggi la prima è che le persone mi fanno da specchio ancora una volta vedo le mie inquietudini o le mie speranze riflesse devo guardare che devo fare in questa parte riflesse nelle persone che incontro e questo mi mi conforta no e questo mi dà mi dà parecchio da riflettere su di me ma mi dà anche degli strumenti importanti insomma l'altra cosa è stata che a un certo momento appunto nel castagneto meraviglioso col muschio ho avuto proprio l'idea che la mia la pace la mia vera me adesso lo dico male ma è una cosa difficile illumina e rischiara tutto il resto tutte le mie la mente che fa quello che le pare e ho proprio ho proprio osservato questa roba che mi è successa oggi per cui sono molto grata sì qualcun altro condivideva il fatto che quando i pensieri si calmavano un po' con la camminata veniva proprio una sensazione di pace no? come se questa pace fosse proprio la nostra base un pochino inquinata dalla mente e abbiamo anche margherita vieni margherita è spintaneamente sono margherita sono volentieri veramente qua veramente qua e mi piace niente posso dire è un'esperienza quando sei in contatto con la notte resta molto una cosa magica e dobbiamo tutti riaccoscire questo contatto per essere migliori questo matrimo possibile se ti è piaciuto mi è piaciuto sono contento non vedo l'ora finita la giornata di domani i 26 chilometri ok grazie a te grazie a te andiamo in chiusura abbiamo parlato di ieri di oggi parliamo anche di domani qua a Meraki ci saranno un sacco di eventi quest'estate allora un po' di più mani che avete visto qui sono ancora reduci dal precampo del raduno rive per cui ci sono tutte le strutture montate poi pubblicheremo anche un pochino di foto spoiler di quelli che saranno i vari luoghi che accoglieranno il campo sarà l'incontro della rete italiana degli ecovillaggi dal 27 di luglio al 31 per cui da giovedì fino a lunedì perché ha voglia di fermarsi fino a lunedì e dopo un mese ci sarà anche un altro incontro e qui vogliamo qualcuno dei più mani che ci venga a dire qualcosa di questo incontro quando sarà che si farà perché è bello non venire o venire vieni da addirittura pubblicità su internet noi non siamo soliti perché funzioniamo col passaparola però la richiesta è sempre maggiore e quindi ci stiamo attrezzando per fare campi sempre più grandi qui per l'occasione è il campo più umano di agosto di quest'anno si terrà qui a Meraki è un campo dove le persone possono riscoprire cosa vuol dire stare in tribù anche solo per sette giorni che è la durata del nostro campo un po' come diceva Maniton 4 questo senso di separazione che si prova nella società dovuto il fatto che abbiamo perso la nostra tribù in quanto esseri comunitari animali da branco e quindi è preziosissimo scoprire di nuovo cosa vuol dire sentire che in realtà non siamo soli e quindi il nostro motto è profondità con leggerezza siamo convinti che attraverso il gioco l'arte la musica si possono vivere anche situazioni molto profonde far uscire emozioni liberare parti di noi che neanche ci immaginavamo e che altro dire sembra sufficiente vi aspettiamo e per chi vuole informazioni come va? per chi vuole informazioni cercate più umani c'è c'è una pagina facebook non molto aggiornata ma il minimo indispensabile e lì troverete i contatti il tema sì il titolo è cuore selvaggio si terrà nel prato cuore che è una radura proprio a forma di cuore quello ci ha dato lo spunto è selvaggio ci serve a sottolineare che è un campo un pochino selvatico quindi insomma ma per chi è interessato vi spiegheremo tutte le tutte le cose necessarie ok grazie c'è ancora la possibilità di partecipare per chi fosse interessato certo certo è l'ultima settimana di agosto l'ultima settimana di agosto ma io ti farei ritornare quasi subito con la sigla di chiusura sigla e tutti qua dietro a cantare la sigla di chiusura con il meglio trasmissioni c'è ancora il gobo con il gobo il testo grazie la stessa c'è la stessa la stessa con memoria con memoria ah ci abbiamo anche siete pronti? pausa pausa ma si ti chiede tra le comunità così scopri un'altra realtà la silenzio è presa tu ritrovi la tua essenza non sarai mai più lo stesso una volta ricornesso grazie buon cammino e ci vediamo grazie a tutti dall'albero di San Pizzato e Trenza ci siamo ancora ci siamo ciao 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 ciao